Cosa è la strada? È sicuramente la strada che mette il stress sul tuo gioco e sul tuo corpo. Le SF e le SP, come ho detto prima, sono collegati attivamente con le biomeccaniche alterazioni. Questo causa un spazio in efficiente e anche armful che conduce a irritazione e, se negli anni, avvolverà in un stato inflamatorio difficile da curare. Il trattamento più comunale è spesso a risoluzione della risoluzione dei sintomi e è accettato da prendere painkilleri e anti-inflammatori. L'evoluzione di questo trattamento tradizionale, frequentemente, led a cronicità e damage, che, in tempo, può diventare irreversibili. A questo punto, l'unica soluzione, dove possibile, è surgical. La fase post-surgicale necessitaria di riabilitazione, che, ovviamente, non garantirà l'eliminazione delle forze tecniche. Quindi, se la causa principale della disfunzione non è accettamente identificata, anche se il trattamento migliore è sufficiente per riempire le biomeccaniche corrette, neanche per cancellare il SF e SP. Per risultato, i sintomi potrebbero ritornare rapidamente per riempire il nostro buon gioco. Un esempio di abbonato in occhio è il trattamento chirurgico di un disc lombare lombare di un golfero con problemi posturali e fasi tecniche. In questo caso, un approccio chirurgico, cercato alla riempire dell'eliminazione dell'eliminazione, sarebbe sufficiente per eliminare i sintomi causati dalla patologia di questo disc lombare. Inoltre, non garantirà la prevenzione di più sofferenza della spina lombare, se causata da fasi tecniche per persistenti, ad esempio, la postura. Stai con noi per sapere più. Siamo fino a qui. Grazie a tutti. Siamo fino a qui. Grazie a tutti.